In gergo si chiamano truffe romantiche e stanno colpendo sempre di più le donne, anche se di poetico hanno poco o nulla. È successo sul territorio bassanese, una sessantene del comprensorio è stata illusa di aver trovato l'amore della sua vita nei confronti di un finto medico militare di origini italiane, nato in Germania e apparentemente operativo in Israele. Come da copione non è mancata da arrivare puntuale la richiesta di denaro e per l'esattezza un totale di quasi 16.000 euro che la vittima ha versato al malvivente in diverse tranche, un vero e proprio raggiro che la donna ha denunciato dopo ulteriori richieste di denaro e intimidazioni. Le forze dell'ordine consigliano sempre massima prudenza in questi casi, specialmente se l'inizio della relazione virtuale ha lo scopo di illudere la vittima.